bella a tutti ragazzi per questo nuovissimo video oggi siamo qua tornati a parlare della nuova stagione di fortnite perché in questi giorni dove io vi ricordo sono in vacanze infatti i video ne stanno uscendo di meno però e anche tra l'altro queste notizie qua sono uscite due giorni fa circa però vabbè raga e ancora non sono tornato tornerò breve poi le live torno tranquilli e sono state spoilerate molte cose sulla prossima stagione il tema e tante altre cose ma prima iscrivetevi al canale se non avete fatto attivate la campanella lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici ci sono dei teaser che sono in realtà delle frasi e due di questi sono questi ovvero tutto o niente e l'altro è sei dei nostri queste due frasi mi fanno venire in mente una cosa ma prima vi dico il tema della prossima stagione che sarà probabilmente anzi sarà un tema dei ricercati cose così furti spie cose del genere ok infatti come potete vedere questo banner strafigo di fortnite che l'hanno messo proprio pochi giorni fa ha i laggi laser quelli rossi che non ricordo come si chiamano vabbè l'allarme antifurto tipo quelle cose là dove tipo proteggono le cose vabbè dai avete capito no i raggi quelli là che servono per proteggere le cose e se tu ci passi sopra li tocchi scatta l'allarme ed è una figata tra l'altro quando nella season 1 di questo capitolo si parlava anzi c'è stato un evento dei ricercati che era una figata ve ne avevo parlato e si sperava si pensava per la season successivo ovvero la 2 in tema dei ricercati non è stato così a quanto pare lo faranno per questa sono molto gazzato ma sapete anche perché perché adesso torniamo alle frasi di prima queste frasi io che adoro la casa di carta che c'entra molto con rapine cose del genere mi fanno venire in mente solo quello perché tutto niente è una frase che viene detta nella serie e se dei nostri anche comunque una roba del genere tra l'altro tra l'altro ci sono degli oggetti rubati da degli influencer ma non so da chi comunque è tutta una messa in scena ovviamente e tra questi oggetti c'è un dipinto del professore della casa di carta mamma mia mamma mia io da un botto che l'aspetto sta collab è del momento giusto infatti questo fatto c'è scritto collab nella prossima season probabile lo spero un botto tra l'altro è possibile perché sì la casa di carta è finita da già da più di un anno se non sbaglio si era il dicembre 2021 quasi due anni che è finita ma deve uscire sempre della casa di carta uno spin off con dei personaggi appunto della casa di carta quindi è ancora in realtà attiva potrebbe dovrebbe uscire entro la fine dell'anno quindi potrebbe essere una spinta per appunto lo spin off questa collab su forment lo spero oggetti che potremo ritrovare o comunque trovare nella prossima stagione sono le auto blindate che già se ne parla da un bel pezzo le c4 che dovrebbero tornare il cecchino silenziato che dovrebbe tornare e il soppresso sarebbe il silenziato il cioppa che se ne parla da quanto se ne parla del cioppa? dal capitolo 3 che si parla del suo ritorno non torna dovrebbe tornare e il cecchino termico bolt action anche quello è un cecchino vecchio che da un bel po' che non ci sta e quindi infatti il tema probabilmente sarà il tema rapine come c'è scritto qua sotto questo è un leak un po' vecchio per questo c'è scritto il probabile in realtà sarà così praticamente quindi regà mamma mia che figo ecco lì sopra l'immagine del cavo con il laggi laser avremo una posizione sulla mappa dove avremo una cassaforte con oggetti rubati e per entrare dovremo passare attraverso questi laser e se tocchiamo il laser subiremo danni è una teoria questa però è molto probabile se sarà così potrebbe essere una figata in realtà come cosa che non serve più magari uccidere un boss e per avere la card magari si ottiene in qualche altro modo però per aprire il cavo ci sono questi laser che è un'aggiunta figa che permette anche in realtà se vogliamo dirla tutta di non camperare troppo che potrebbe essere una cosa ottima visto che nei bunker attuali si campera anche abbastanza altra cosa non so se è una cosa positiva oppure no ma i veicoli futuristici e anche la moto da cross più il bioma asiatico quello giapponese quindi quello di megacity dovrebbero rimanere anche nella stagione 4 sinceramente sono felice cioè nel senso se è così veramente sono felice perché vuol dire che quella parte di mappa non verrà toccata e io sono felice finché non toccano quella parte di mappa sono felice non perché mi piaccia chissà quanto megacity mi piace per carità le altre città non le cago però se posso dire la verità preferisco che modificano altre parti della mappa tipo la parte a sinistra la parte tutta a sinistra della mappa non mi piace sia sopra che sotto sinistra da cambiare tutta e non l'hanno ancora mai cambiata vedremo se la cambieranno in questo season 4 ora ci facciamo tutta un'elencata qui di cose con un bel elenco di tutto ciò che sappiamo sulla stagione 4 del capitolo 4 di Fortnite allora avremo un boss di Halloween che sarà un vampiro quindi presumo che la season finisca almeno dopo Halloween metto le mani avanti non lo so però in teoria se è così non sarà correllato al tema della season quindi ok quindi la season non è a tema Halloween meno male o comunque ci sta sto tema delle rapine Migasa e se lo fanno bene è una figata contando che se cioè ricorda un po' la season 2 del capitolo 2 con Nida la mia season preferita speriamo le skin degli artisti dell'evasione sì quelle là che dovevano uscire un botto di tempo fa poi non sono mai uscite sono state appunto recentemente aggiornate quindi potremo averle e qua si riconferma sono le skin quelle dei ladri modificabili che non sono mai uscite dovrebbe arrivare un boss sconosciuto nelle torri radio non si sa che cosa siano ma ok escutori nei furgoni blindati e nelle torri radio esecutori non escutori sono un pirla non so leggere ragazzi che ho il telefono lontano e quindi mi dispiace ma leggo male oggetti recentemente aggiornati come le oh Jack Jack bello quello senza fine ok quindi quello quello infinito quello che era mitico quello se non sbaglio e le C4 ne abbiamo parlato prima oggetti recenti non ancora rilasciati ovvero il fucile di precisione termico interruttore che non lo so e la minigun zaino sarà una minigun che ti porti sullo zaino tipo come il canone di Optimus Prime e ce l'hai sulle spalle e lo tiri giù e spara non lo so e poi veicoli recenti non ancora rilasciati ovvero gli elicotteri con i lanciamissili tipo gli elicotteri che ci sono su GTA che hanno i missili guidati eh sai che figo raga mi sta casando un botto sta roba e i furgoni blindati questo ragazzi è quello che sappiamo sulla prossima stagione fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti io vi chiedo scusa se in questi giorni sono usciti pochi video le live ovviamente non ci sono state ora in questi giorni torno no bisogna capire qua c'è stato un piccolo problemino però entro a fine season ovviamente io ci sono faremo la maratona come vi ho già detto il 24 quindi tanta roba o il 25 season nuova e queste per adesso sono tutte le novità che sappiamo fatemi sapere appunto cosa ne pensate iscrivetevi al canale ti vedete la campanella lasciate un bel mi piace condividete il video con tutti i vostri amici io sono stragasato perché è un tema che a me piace quando si parlava per l'evento dei ricercati che c'è stato in season 1 del capitolo 4 ero molto gasato poi è stato anche figo volendo però era tutta roba riciclata perché era per un aggiornamento il periodo non era ottimo venivamo da una season un po' così brutta adesso se lo fanno figo se lo fanno bene regà sto tema spacca lo devono fare bene però se lo fanno bene regà è fatta potremmo forse avere una season bella vedremo io vi saluto vi ringrazio ci vi chiamo nel prossimo video